Meno 42% è la percentuale dei furti commessi nel Bassanese in quest'ultimo anno rispetto a quello precedente. Nello specifico, meno 72% in negozi, meno 44% in abitazioni, meno 78% su auto in sosta. In calo del 12% le lesioni dolose, mentre aumentano del 50% le minacce. Per la sezione amministrativa, più che dimezzati, parliamo del meno 68%, i passaporti rilasciati, visto il blocco imposto dalla pandemia. Sono i numeri divulgati dal questore di Vicenza, che definisce più che positiva la situazione nel Bassanese, dove operano gli agenti del commissariato di polizia di via Pecori-Giraldi. La situazione di Bassano è una situazione che è ancora migliore sul resto della provincia, specialmente sul fronte della diminuzione del reato e sul fonte della criminalità in quel particolare territorio. Quindi sono molto contento anche dei risultati che abbiamo avuto a Bassano, sia sul fronte della prevenzione, quindi anche le misure di prevenzione, anche il controllo del territorio da parte delle volanti, sia sul fronte, e questo ha prodotto anche una grande diminuzione di reati. Anche lì, forse, ancora più che in tutta la provincia, abbiamo una netta flessione dei reati. Grazie.